Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dal nostro Draven. Oggi siamo nuovamente come sempre su Rainbow Six con la nostra Road to Diamond. Me l'avete chiesto in tantissimi, nel senso che molti di voi mi hanno detto perché non stai portando più Rainbow Six? Perché hai terminato di portarlo ma non lo porti più? Tranquilli Rainbow Six rimane e rimarrà per molto tempo il gioco chiave del canale, l'ho sempre detto e continuerò a ripeterlo. E' un gioco che utilizzo praticamente tutti i giorni, cioè non mi stacco più, non succedeva dai tempi d'oro, quelli veri, di COD, quindi non c'è problema, nel senso non preoccupatevi se a volte non lo porto, poi perché qualche giorno ovviamente non registro, oppure perché cerco di far spazio a Quantum Break che il fatto che non mi dia risultati, per così chiamarle, rispetto a Rainbow Six o The Division non significa che io non lo debba portare, ormai è iniziato il let's play, ci tengo, è un gioco che comunque sto portando avanti grazie anche ai video che porto sul canale, perché cioè se non recco non gioco neanche a Quantum Break, quindi figuratevi. Per cui non perdiamoci in altre chiacchiere e il nostro obiettivo è sempre quello di conquistare sto benedetto goal 3, goal 4 e poi passare il platino, perché non ce la faccio più a rimanere qua, quindi andiamo alla partita. Eccoci qua ragazzi, come sempre il solito Andrea Ironhawk. Cerchiamo di spaccare questa volta, come si vive. Esatto. Allora, quando ci commettiamo che sono giù? E infatti sono giù. Lol, ci nascondiamo dietro il microonde. Esattamente. Aspetta. Vai taccidino. Oh. Vai che lancio il suo, mi trovo la fumogena. Ah già. Occhio. Minchia, vi ha fatto in due, vi ha fatto. Eh ma manca a coperto quello. No. No, me lo sapevo che era subito a sinistra. Immaginavo. Vabbè l'avevo giocata male, cioè il touch era molto successo, cioè siete morti subito voi due, cazzo. Cioè è diventata una costante che i primi round di tutte le partite che io porto sul canale fondamentalmente le perdo. Cioè nel senso, è diventata una cosa che non può cambiare. È così. Poi magari vinciamo o perdiamo un altro discorso, ma nel primo round assoluto dobbiamo sempre perdere. Facciamo anche la difesa attiva. Due bottole le abbiamo rinforzate. E ci andiamo a sistemare. Cioè che ti dico, mi voglio tentare una spawn kill diversa su questa mappa. Così, random. Li vedo, li vedo, li vedo, li vedo. Eccolo, il fuse. Ci mette una vita a morire. Eh, figlio di puttana. Ma è morto! Non è morto! Col C4! Ma non ci credo. Ah, ecco perché non è morto. Ma vaffa al culo. 4.3 c'è il glasico che mi sta tenendo, non ci credo. Però sto ce l'hai a destra. Non ci credo. Ma come puoi morire così? Anditone, anditone via. Bravissimo, li. Eccolo! Eccolo! Bravo, 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 bravo. Ci salva il round, attenzione, così. Beh che l'ingresso a distanza di 50 centimetri l'uno dall'altro nelle scale senza mirare mi è piaciuto da parte degli avversari, però... ok. Occio che probabilmente se ci caliamo dalla finestra fanno le spawn kill dal garage. Eh, sì. Probabile. Attenzione! Doppio passo, doppio passo, li frega tutti. E va. K, allora... Allora, io vorrei provare ad entrare dalla... da sopra, da qua. Sì, va bene. Ah, vabbè, sì, ci prendiamo, diciamo, l'annitone. Andiamo... Aspetta, fammi dire se c'è qualcuno. Ci sta. Vai. Occhio di lato, passo da destra. Oh, c'era qualcuno qua! Ma dai, a sinistra, nell'angolino della stanza, sopra i mobili. Non l'hai mica visto? No, non l'ho visto. Dove sta? È lì, era. È, era lì. È una merda. Cazzo. Ti ha fatto... Ti ha fatto passare, ha preso me. Eccolo. Eccolo, eccolo, eccolo. È lì, lì, lì. Lol. Bellissimo. È stato in bianco e nero e è stato... È stato emozionante vedere la sua morte in bianco e nero in diretta. No, non l'ho visto. Scusami, Raffa, è stato proprio... È stato nascosto di brutto dentro. No, vabbè, sì. Era nell'angolino, sopra i mobili. Cioè, più ignobile di così, non si può essere. Chiusa sta piazzando, coprilo. Coprilo, sta piazzando. Non so cosa fare! Come l'ho fatto! Non sapeva cosa fare, si è girato! Oddio, voglio fuggire! È morto male! Morto... Che brutta cosa, cazzo! Allora, quindi, castor e barricato quelle due finestre e questo. Perfetto, ragazzi, ricordatevi perché questo è, secondo me... Secondo noi... Aia, occhio, fuse! Madonna! Mi sono messo a correre in mezzo alle bombe di fuse! Cosa di ignobile! Dicevo perché, ragazzi, secondo me sono le migliori coperture col castor in questa mappa, però fatemi sapere se voi magari barricate in modo diverso o in modo migliore. Siamo dopo qui, levati, levati, levati! Cazzo, questa terra! Cazzo! Occhio! Sta arrivando, occhio! Bella, bravo! Mi è piaciuta quella! Madonna, è morto male! È morto male! Ma solo noi troviamo gente che usa frost addormentata? Madonna, madonna... Quando lo usano gli altri sono un t-pro gamer. Ma non ce l'aviamo in squadra? Ma amore, comunque... Dietro! Ce l'hai dietro! Vabbè, tra le due le parti, capito. Allora, io faccio saltare la... La barricata principale. L'ingresso principale. Vai, sono passato. Fammi vedere dove sono, aspetta. Cazzo, però è giorno e quindi c'è ombra dentro, non riesco a vederli. Ok, c'è uno sulla destra, dietro lo scudo. Mi sembra che è l'unico. Entra un attimo, eh. Raffa, entro. Ah, chi è che c'è dietro di me che mi ha bloccato? Minchia, tu! Lasciami la bomba. Oh, frost! Bagni! Mi sposto, Raffa, devo regalare. Aspetta un attimo. No, 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 c'è il frost da parte di bagno. Ok, hanno barricato. Occhio, botola, botola, botola. Su, 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 su. Botola, qua. L'avevo visto. Lancia delle fumogene, Raffa. Sì? Raffa, lancia le fumogene, vai. Aspetta, mi hanno accecato, porca troia. Non ce l'ho io, non ce l'ho io. Vai, vai, vai. Vai, Fuse, mamma mia, vai. Vai, madonna. C'è, incredibile. Da, mi hanno aprito la testa, non ci credo. Incredibile, quanto possono essere stupide le persone. Cazzo. Cazzo, dovevo prenderla io, quella bomba. No, lui si era incapponito che voleva piazzare lì, testa di cazzo. C'è, incredibile. Guarda, odio, odio, odio per queste cose. Cazzo di Fuse, idiota. Sono tutti dalla parte dell'atrio principale. Questo è il primo che muve, guarda. No, l'ho ferito, non ci credo. Tutti qua, tutti qua, tutti qua. Raffa, controllami le scale che lo sento carretto, infatti. Bravo. Bravo. Buona. Dai, dai, dai. La recuperiamo questa, cazzo. Stiamo allo scudo lì. Occhio. Le scale. Cioè, e quanti sono con lo scudo? Ma dai. Ma dove stanno qui? Ma sei serio? Non passano più. Ma riprendersi il C4, questo no, vero? Ma che cazzo fa? Ma cosa sta facendo? Cioè, ma stiamo scherzando che la gente è così rincoglionita? Io non ho parole, davvero. Io non ho parole. Cioè, ma tutte io le trovo a queste persone quando devo registrare. Non mi spiego come la gente possa essere così rincoglionita da spendere 70 euro di gioco per poi giocare di merce. Comunque non capire come funziona il gioco, perché fondamentalmente parliamo di questo. Termite chi è? Il Termite dove cazzo è? Per favore. Lascia la bomba, almeno. Sii così gentile da lasciare la bomba. Non è anche quello. Ok, dai. Dai, dai. L'abbiamo piazzato. Su. Siamo riusciti a piazzare. Vabbè che sono in tre questi, dai. Ok, buone. Dai. Cioè, siamo, cazzo, cinque contro tre. Cioè, se non vinciamo adesso con questi, io... Non so. Sincero, non so. Ci barichiamo. Sempre le botole. Dobbiamo chiudere. Questo era un finale assolutamente. Dobbiamo chiuderla qui, la partita. Un po' inirritata come risultato. Cioè, se vinciamo questa è ladrata, effettivamente. Ammetto che è ladrata la partita, però. Ho giocato male con l'intera squadra. LOL. Buone, Andre. Due minuti e cinquanta, cazzo. Due minuti e cinquanta. Cioè, se non chiudiamo la partita qui, riusciamo a perderla. Cioè, abbiamo la ladrata della storia più etica della vita. Se non riusciamo a sfruttarla, siamo dei deficienti. Fondamentalmente. No. È accaduto... Ha cresciuto Iron. Sapevo. Vabbè, dai, tanto era già morto. Non ci fa perdere nulla. Cazzo, l'ho visto. Presso. Dai, dai che è vinta. Dai. Su. Dai. Abbiamo fatto la ladrata più bella della storia, cazzo. Mi è piaciuta. Mi è piaciuta. E vediamo come siamo messi con il grado. Perché a questo punto, per non chiederci se ce l'ha dato o no, ma dubito fortemente. Infatti siamo rimasti sempre a gol 2. Però dai, era una partita un po' così safe, tranquilla. Non mirava niente di particolare. Ho dovuto registrare così giusto per portare il grado nel canale. Per cui, concludiamo qua. Perfetto, ragazzi. Siamo riusciti a terminare questa partita. Abbiamo ladrata come pochi. Cioè, è un risultato totalmente meritato la nostra vittoria. Però, ci va bene così anche per recuperare un po' le sconfitte che abbiamo fatto negli scorsi video. Per cui, ragazzi, mi raccomando. Lasciate un bel like di supporto al video e al canale. Mi fa solo piacere. Commentate qui sotto, come al solito, come state facendo sempre, con i vostri commenti, i vostri pareri. Ditemi come vi sareste comportati voi in questo match, se vi è piaciuto. Se effettivamente concordate con me sul fatto che è stato un risultato praticamente ladrato la nostra vittoria. Ma non dimenticate, come al solito, la pagina Facebook che vi linkerò sempre qui sotto. E sotto, ad ogni mio video, mi state sostenendo tantissimo anche lì. Mi raccomando, continuate. Per chi non l'avesse ancora fatto, lasciate un bel like anche lì. Per cui, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.